bella a tutti ragazzi eccoci qua con un nuovo video di syndicate secondo appuntamento con syndicate bene 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 con il nostro chilo siamo arrivati a los angeles nel 2069 wow figata pa 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 quindi vedremo cosa ci aspetta su carica 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 ehi tu non sarà come nei test sai no questa è la vita reale le vittime civili non sono un problema dai la caccia c'è anche impossessati del suo cibo io mi dirò al mainframe vedrò che cos'anno ok andiamo prendiamo il microchip yoohoo microchip io sono chilo oh qui ci dividiamo volevo ucciderlo io resterò in collegamento tramite il cibo ok certo si certo ma stai zitto chip chop ora violazione a stare cos'è il logo della tari sembrava sembrava un po' la roba di di transformers quel rumore lì tipo quando il robotino violava il mainframe della dell'air force 1 lì air force 1 avete presente? no ok faccia di culo bene cazzi suoi ciao stronzo ricerca e sviluppo in corso bla 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 io sono chilo ah si ve l'ho già detto ehi tu ho disattivato gli allarmi per il momento per un po' non avremo problemi con la sicurezza interna ok ma io ammazzo tutti cazzo me ne frega ehi tu ehi tu vado boom è morto pam muori E vai Ma si Suca Mira del cazzo Ma sono ancora vivo? E crepa Yeah Stronzo Ehi tu Vaffanculo Ciao amico Chi è? Sono satico Poi di violeta te Vaffanculo Cos'è sto cosa? Porco di E mi che serve? Beh Vabbè Non so cosa servono Che niente Proseguiamo Risorsa Gary Chang Contatto visivo Eccolo Gary Chang Il tuo chip Sarà mio Sto intercettando Una trasmissione criptata Alla risorsa Gary Chang Hm Pensi che sapessi dei nostri scambi Non lo so Stiamo mandando quegli agenti a giocarti Non vi andiamo con l'interno Oh merda Devo essere No Anchiulo Decritazione e pulizia in corso Ok pulisci Pulisci Datascape Disturbata Datascape Jump 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 Cos'è? Roba mia Non posso prenderlo Va bene E di qui? No E di qui? No E di qui? Buh Grumpi Ciao amico Ok Ah fa' il culo C'ho tempo di parlare con te Faccia di merda Oddio Strappo il cip Oh Schifo Bene Ne abbiamo fregato il cip Oh Bello 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 Mettiamolo qui Sì Ok Mi sono potenziato un po' Bastardo in meno di cui preoccuparsi Andiamocene da qui Posso aprire la porta per te ora Devi portare quel cip al quartier generale E apri Bene torniamo al trasporto A cagare Distruggiamo tutti Divertimento Eccolo lì lo strozzo Cazzo era troppo vicino Vetro ceramico A D A P Per affalto contro attacchi termici e proiettili Se lo dici tu Non è possibile contro impatti di alto calibro A basse temperature Eh Non riesco a ucciderlo Ah ma non muore Perché non muore? Perchè non muore? Perchè non muore? Oh non muore Vabbè che se ne fotte Noi cazzo Ok uno E due Ficca l'arma Che minchia vuoi? Eh Disattivata stronzo Ma me la prendo E te la lancio nel culo Come cazzo si faceva a prendere la granata? Eccoti Addio Coglione Bimba da bimba bam bam Ma che divertimento Sì La mia mira fa un po' cacare Ma che se ne fotte Eh Eh Più 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 Ehi! Ma ogni tanto non me la fa pigliare Ma chi cazzo è? Tiè Di merda Divertente Come no? Beh Che bordello che c'è qui Ma Cristo Ma dai Stai giù Stai giù Ti spacco tua sorella Cazzo è questa cosa? Wow Figo Robottino Amico robottino Ti violo un pochettino Pum, pum, pim, pum, 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 pum Ups Se ha rotto E' 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 misione compiuta uscina un'altra da qualche parte si arrivo oh merda oh porca oh merda ok lascia il piano via merit bravo bravo bene ragazzi questo gameplay finisce qui vi aspetta ai prossimi ciao ciao da GeneticDNA grazie grazie grazie